Stiamo un po' insieme in questa passeggiata in Costa Rica. Mi trovo a Tamarindo, abbiamo già cambiato quattro case da quando siamo arrivati, però questa ha un'anima, che è la cosa che preferisco di più in assoluto nel mio giro del mondo. È qualcosa che respiri quando arrivi. Una casetta tranquilla, isolata. La prima cosa che scopro è questo. Questo è esattamente come quello che usava mio nonno quando da piccolo mi portava in giro per i campi ad Ossona. Io vengo qua e trovo questo segnale bellissimo. Non vi nascondo che mi è partita anche la lacrimuccia. Allora, adesso mettiamo il codice. Uno, due, tre, quattro. Ok, funziona. E facciamo due passi insieme, se vi va. Andiamo a scoprire una zona che è proprio molto molto nature. Qui in Costa Rica, Tamarindo, fuori dalla zona turistica dove ci sono i surfisti, gli americani, gli hotel. Siamo praticamente in mezzo a una campagna in Costa Rica. La luce è meravigliosa. Qui sono le quattro e mezza. Considerate che... Guardate che fleur. Si chiama così. E considerate che qui alle cinque e mezza diventa buio. Cioè, arriva il tramonto molto presto. I tramonti sono stupendi. Sulla spiaggia potete vedere delle cose veramente meravigliose. E ciò che accade in questi giorni è che il mercato sia il mercato dell'S&P americano quindi sia il mercato delle crypto ha avuto una grossa discesa chiamiamolo tracollo forse un po' troppo per il mercato americano ma quello delle crypto insomma ha avuto una giornata dove tra massimo e minimo ha fatto il meno 26. Mangiamo un po' di polvere. Guardate le mucche là fuori. Che immagine ragazzi. Stupendo. Io adoro questo. Mangio volentieri un po' di polvere per questa meraviglia che poi mi fa tornare bimbo quando io stavo nei campi con mio nonno. Non era così. da picciore incredibile però. E quindi io volevo condividere con voi questa passeggiata e un pensiero che è molto emotivo è molto psicologico ma alla fine lo sappiamo tutti che se non ci stai dentro con la testa non fai nulla. Ma non solamente nel business nel trading e nel bim bum bum in generale se cerchiamo di controllare il mercato se cerchiamo di controllare molte cose della nostra vita diventiamo pazzi io lo so che molti di noi avrebbero necessità desiderio di controllo io voglio che non dico che il mercato fa quello che dico io ma voglio che regolarmente ho delle entrate regolarmente ho i profitti regolarmente le cose vadano bene ma non è così ma non è così niente le cose più regolari da cui otteniamo qualcosa di costante sono le nostre routine quotidiane se decido di lavarmi i denti tutta la mattina sarà noioso magari non è che ho tutta sta voglia però lo faccio e riesco a tenere con costanza questo se tutti i giorni vado in palestra bene ma già il risultato che ottengo tutti i giorni andando in palestra non è regolare perché i primi tempi vedrò poco poi vedrò di più poi vedrò di meno poi vorrò arrivare a quella situazione ma non ci arrivo nel tempo che voglio è così con la dieta è così col pianoforte è così con lo sport è così se voglio andare a cavallo se voglio imparare a fare il surf qui in Costa Rica è pieno perché il mare le onde non sono altissime ma ho scoperto che sono costanti per cui sono perfette per farci il surf quindi ogni cosa è così allora io quello su cui voglio puntare è questo qua cioè l'obiettivo nostro piacerebbe entrare in qualcuna di queste vigne però c'è la staccionata non vorrei che poi vengo rincorso c'è un maiale là da qualche cane che mi fa il pelo e il contropelo eccolo qua quindi quello che ti voglio dire qui fanno il latte si vede il contadino quello che vi voglio dire è questo l'obiettivo è guadagnare soldi il tramite possono essere molti noi io personalmente ho scelto il trading online perché è questo? perché mi dà la possibilità di competere con i big Amazon non mi fa il mazzo se io mi metto a vendere le matite online sì è il mio competitor big che mi fa il mazzo ma se io faccio trading online JP Morgan non mi fa il mazzo perché JP Morgan per combattere col mercato e mettersi sul mercato non ha dei vantaggi sì può avere dei vantaggi competitivi perché magari ha dei trader migliori di Max ma non ha altri vantaggi per il fatto di avere una massa critica gigantesca anzi quindi è un mercato democratico e questo mi interessa non è un mercato dove se sono più bravo a vendere qualcosa a qualcuno sono il migliore o no non devo competere per vincere nella maggior parte dei mercati in tutti i business se non sei tra i primi posti c'hai le briciole io nel mio mercato quando vendo formazione e servizi se non sono nei primi posti mi prendo le briciole perché sono nei primi posti non voglio dire al primo quello dovete deciderlo voi perché io faccio vedere la mia operatività i miei conti di trading lo faccio da una vita lo faccio lo faccio vedere e questo per me è quello che mi fa ottenere risultati mi circondo di persone che vogliono ottenere risultati e vogliono vedere che io glieli faccio vedere risultati anche quando le cose non vanno bene qui c'è un campo no ma immagini così ragazzi sono una roba che fa perdere la testa a un fotografo là ci sono le mucche ma non so se le vedete perché c'è il sole incontro luce io impazzisco per queste cose qua ragazzi cioè io la vegetazione queste cose qua la luce così divento pazzo e quindi quello che vi voglio dire è il partito preso per cui io scelgo il trading online è che non c'è nulla di così meritocratico è indipendente indipendente oggi parlavo con una una signora italiana che vive qui in Costa Rica a un bar a Tamarindo da sette anni lei dice io per far arrivare il vino un particolare tipo di vino l'amarone che conoscerete non riesco perché mi dicono che in Italia non riescono a fare le bottiglie per imbottigliare il vino vero o no lo sapete tutti che in questo momento è difficile reperire la domanda c'è l'offerta che è difficile da soddisfare e questo fa salire i prezzi il nostro è un mestiere dove è liquido cioè non c'è il problema di comprare o vendere manca lo strumento sale il prezzo non riesco a approvvigionarmi devo litigare con qualcuno il mercato è lì voglio comprare l'euro dollaro lo voglio vendere è lì clicco non c'è il problema del liquidità meno che non so cosa tradate ma non c'è il problema del non mi paga la fattura allora non mi paga la fattura io fallisco lavoro ho una commessa per la boeing miliardi poi alla fine la boeing fallisce fallisco pure io no il mercato paga la fattura se tu apri chiudi la posizione hai la garanzia del pagamento a meno che non ti scegli un broker truffa che ti fotte i soldi ma se no la garanzia non ho mai fatto un video con una luce così meravigliosa sono arrivato in macchina con la jeep ho detto a Mirella esco a fare un video perché ho voglia di fare una passeggiata intanto mi faccio un video e ho detto boh mi piace il posto verrà bene ma non pensavo mai a una roba del genere roba incredibile quindi noi abbiamo queste garanzie che nessun altro mercato ci dà allora io una volta anni fa si dice il trading online è simile a una bisca ma per carità oggi abbiamo visto che il trading online gli investimenti nei mercati finanziari che non sono proprio la stessa cosa poi ne parliamo sono un mestiere punto e le persone della fascia medio alta si stanno arricchendo grazie al fatto che investono in borsa con le cripto stiamo parlando investimenti quando io parlo di trading non sto parlando di speculazione dei trading apri e chiudi in 5 minuti sto parlando o di investimenti compro e tengo o di positioning cioè apro e chiudo dopo anche settimane non sto parlando di speculazione intraday scalping roba molto più difficile da portare a casa in positivo io ho fatto anche quello ma vi sto parlando di o investimento o posizione per esempio sul forex non faccio apri e chiudi tengo le posizioni perché questo rende completamente diverso il sistema di produzione dei soldi nel trading che non c'entra niente con la bisca che non c'entra niente col casino che non c'entra niente e per niente con tutto questo permettetemi di dirlo ora quando decidi di fare questo tipo di attività che non è legata al territorio non è legata a fornitori clienti dipendenti magazzino eccetera avrai pure delle controindicazioni non ci sono cose positive non è il magazzino non devi fare il marketing non devi essere meglio di quell'altro non devi investire in 3000 robe devi mettere i soldi sul conto più ne hai più puoi guadagnare in soldi in percentuale lo stesso però all'inizio se non sei capace inutile che metti dei soldi importanti devi imparare come ogni lavoro poi l'approvvigionamento del denaro è una delle cose più o meno complesse ma anche se apri un bar fai una start up metti il capitale sociale della tua società è chiaro che l'approvvigionamento del denaro è un problema infatti in molti casi in molti business si cerca l'investitore tornando a bomba noi la cosa importante da comprendere è che se io semino in questa vigna ci metto un po' a vedere che cresce l'uva o che cresce quello che ho seminato non è che nel frattempo però il mio conto in banca ho comprato i semi ho arato ho pagato il trattore va giù a un certo punto raccolgo siamo tutti d'accordo la salutiamo tutti siamo tutti d'accordo dobbiamo scegliere un bivio vado di qua che per un periodo di tempo io metto soldi lì e vado sotto arriva il momento della raccolta quest'estate qui in Costa Rica prima che io ci venissi ho visto ho assistito ho seguito ci sono state parecchie precipitazioni importanti e è stato un casino quindi magari i raccolti sono andati male allora io quella perdita là che ho riportato per comprare i semi seminare arare il trattore gli operai non la vado a riportare fino al raccolto la vado a riportare fino all'anno dopo se non sono abbastanza capiente economicamente salto e la mia terra se la prende un altro e non stiamo parlando del trading online stiamo parlando di un'attività che è quella della terra che voglio dire esiste da che esiste l'uomo ora nel trading online qual è il problema che tu apri una posizione la guardi la guardi va sotto del 10% e dici cazzo sono sotto cosa devo fare il problema delle persone dell'uomo in generale è che è indotto ad intervenire cioè le persone se qui inizia a scoppiare un diluvio e viene giù l'acqua dicono avvo è un problema della Costa Rica facciamo un canale di scolo cioè le persone non stanno lì a vedere che accadono le cose vogliono intervenire siamo intelligenti non siamo scimmie però attenzione se non c'è da intervenire o bisogna aspettare di capire dove è meglio fare il canale di scolo prima di farlo è meglio attendere avere pazienza osservare poi agire il trading online in che cosa e gli investimenti in che cosa differisce che mentre noi vogliamo intervenire perché c'è un motivo magari tipo chiudere le posizioni in attivo o avere delle posizioni in perdita che forse è meglio levarci oppure decidere di tenerle andiamo in balia fura di vedere le posizioni che si muovono di una decisione che è psicotica è ansiosa cioè non c'è un motivo vero per cui compriamo o vendiamo diventa una necessità di risposta a uno stato d'ansia che è un meccanismo virtuoso assolutamente negativo perché se io vado in preda all'ansia per decidere che per togliermi l'ansia per mettere da parte quello stato d'animo devo fare qualcosa faccio un casino nero e questo è il vero segreto per cui i trader gli investitori fanno dei pasticci a questo punto il problema non è più se hai comprato l'azione buona e mettiamo che abbiamo comprato Amazon cosa gli vuoi dire che fa schifo mettiamo che hai comprato Facebook che adesso è entrata anche nel segmento metaverso cosa vuoi dire che hai comprato un'azione che non va bene e se Facebook mi fa meno 10 in un giorno ti viene in mente che forse l'hai comprata troppo alta eh ma la società è buona però l'ho comprata troppo alta oppure magari per 6 mesi scende e mi scende del 50% e a me non mi sta più bene ho capito ma se tu hai detto che hai comprato Facebook perché ci credi e sei disposto a tenerla magari anche per 3 anni perché il giorno che Facebook scende del 10% inizia a cambiare idea del 30% inizia a cambiare idea perché l'hai comprata perché perché volevi guadagnare subito quindi la tua aspettativa di guadagnare subito quindi di comprarla mentre saliva magari era anche ai massimi poteva salire di più viene disattesa il tuo copione che era entro e chiudo per poco è diventato entro non esco perdo il 10 il 20 il 30 quando io volevo fare il 2% il 3% è uscire guardate dove siamo andati il gallo lì alto come me se mi punta sono fregato quindi quello che vi voglio dire è che al di là di tutta sta strategia di trading che si legge nei libri entra qua metti lo stop loss e le bande di Bollinger e il Fibonacci tutte quelle menate là noi compriamo merce per vendere un prezzo più alto oppure andiamo short per chiudere la posizione a un valore inferiore e per fare questo bisogna decidere prima di tutto che cosa siamo disposti a rischiare avere un rischio che abbiamo in tasca è inutile che noi rischiamo più soldi di quelli che abbiamo in tasca cioè 10 mila euro in tasca vado in leva 5 tanto uscirò con un profitto prima che accaderà il dramma tu continua così e ti metti nella condizione di creare il dramma se invece hai 10 mila euro in tasca e non rischi più di 10 mila intanto il dramma che puoi creare qual è? che al limite ti stai rischiando i soldi che hai non più di quelli che hai e stai riducendo il problema l'altra cosa importante è che non puoi sbagliare l'orizzonte temporale io entro tanto farò un po' e esco la maggior parte delle persone si crea un'aspettativa che non è sana quindi entra prende qualcosa esce entra prende qualcosa esce entra prende qualcosa esce poi a un certo punto gli rimangono le unghie in mezzo alla porta perché? perché entra e quell'operazione gli va male quell'operazione secondo lui gli va male perché perde il 20-30% ha perso tutto quello che aveva preso a pezzettine di 0,5 o 1% è sotto e a quel punto si consuma il dramma perché? perché cavolo un mese e mezzo di piccole posizioni perse in un solo giorno magari tutto questo moltiplicato per la leva allora il bitcoin rompe 53 mila dollari tu sei dentro in leva ci hai fatto il 2% tutti i giorni per 30 giorni pensavi che avevi fatto bene e adesso ci lasci sotto le unghie perché perdi il 26% in leva 5 e ti brasi l'account e grazie a quelli come te che hanno fatto così il livello dei 53 mila del supporto salta perché? perché tutti quelli che ha messo lo stop loss sono andati in margin call si levano dalle palle che cosa succede? bram! che viene il flash crash lo chiamano così perché il prezzo del mercato viene giù veloce come se qualcuno avesse sbagliato a cliccare i miliardi short sull'euro-dollaro in realtà si sono tolti tutti quelli fra l'altro in questo caso che vi cito specifico di qualche giorno fa è avvenuto il sabato quando gli istituzionali non ci sono si levano tutti e il mercato viene giù no? e quelli che si sono levati che avevano comprato il bitcoin a 58 mila a 60 mila a 57 mila a 55 mila perché si sono levati a 53? hanno cambiato idea sul bitcoin il bitcoin fa schifo è carta straccia non è più una riserva di valore non piace più a nessuno ma come? Michael Sellers ne ha comprati 7 mila di bitcoin di recente li ha pagati 60 mila dollari lui se li tiene tu devi uscire a 53 mila devi uscire a 40 mila magari sui minimi che poi lo vedi risalire ti mangi anche le dita non solo le unghie allora il trading o gli investimenti sono un mestiere e come tutti i mestieri sono fatti di conoscenza di skill di capacità di rispetto per il mestiere e per il danaro di solito tu hai rispetto per il danaro che guadagni no? ora sarebbe bene avere rispetto anche per il danaro che guadagni e investi in borsa quindi è inutile che tu entri esci apri chiudi e ti fai prendere dalla frenesia dall'ansia dalla dalla roba dalla psicosi perché tutto questo è stato incentivato dalla letteratura che ti dice entra qua esci là metti lo stop loss che ti salva la vita e tutto questo ti porta a pensare che tu ti devi muovere sul mercato spesso e che questo muoversi spesso ti fa vedere che porti a casa dei guadagni è come se tu fai delle attività per conto di società e metti fuori le fatture che ti pagano spesso non è la stessa cosa una volta che tu chiudi un'operazione e ne vai a fare un'altra non hai detto che quella va bene lo stesso anche perché se tu compri un altcoin compri bitcoin compri l'ethereum e stai comprando se il mercato viene giù probabilmente ti viene giù quella come ti viene giù quell'altra voglio andare short così guadagno se scende bene hai la probabilità di guadagnare anche se il mercato scende infatti alcuni mi dicono ma come se tu nelle crypto compri e basta il mercato viene giù che cosa fai allora mettiti a shortare mettiti a shortare come quelli che dal 2020 dopo la fase covid hanno provato a shortare l'S&P una serie di volte è un anno e mezzo che va su o tu ti prendi quel piccolo ritracciamento che fa statisticamente a livello anche temporale improbabile oppure quando tu shorti te la prendi sul muso per cui il fatto di poter guadagnare anche quando il mercato scende raddoppia le probabilità perché puoi guadagnare in salita e in discesa ma anche di perdere perché è sempre una scelta comprare o vendere in un mercato che può salire o scendere quindi non ti cambia la vita raddoppia l'opportunità perché tu puoi fare due cose ma raddoppia le probabilità di andare male perché tu puoi andare bene comprando puoi andare male comprando e al contrario puoi andare male con le stesse probabilità quindi non aumenta aumenta nessuna probabilità aumenta le frecce al tuo arco aumenta gli strumenti che hai ma non aumenta le probabilità quindi quello che ti voglio dire è che sunto 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 ci sono degli atteggiamenti che sono errati tra cui la leva finanziaria e tra cui mi spiace dirvelo ma anche sto benedetto stop loss che hanno introdotto per salvare i conti a chi l'unica cosa che sapeva fare era mediare in perdita e poi alla fine però hanno creato un altro problema è come quando tu introduci un animale che ne mangia uno che non va bene poi quello lì che mangia quello che non va bene non riesci più a togliertelo perché è inuccidibile quindi i comportamenti sbagliati sono uso la leva finanziaria metto lo stop loss sotto quel minimo che poi mi spazza via e poi il prezzo riprende forza non diversifico altro comportamento sbagliato ho fretta non aspetto il mercato non si può prevedere in tutte le sue forme quindi altro grande viziaccio il timing io voglio imparare a entrare a momento giusto io uso Fibonacci io uso la media uso questo quell'altro il sistema automatico perché voglio entrare a momento giusto e se il momento giusto l'ho beccato per tre volte voglio migliorare la quarta volta che è andata male perché voglio capire come includere quella quarta volta in un sistema che ci becca quasi sempre il timing non è la cosa giusta da inseguire io vi dico nei soldi che porto a casa il timing impatterà forse il 20% del lavoro se va bene se va bene probabilmente arriva anche fino al 5% quindi anche se ne porto a casa in sacca una sporta non è il timing quindi questi errori grossolani che si fanno sono quelli che poi ci fanno focalizzare sulle cose sbagliate e prendere le decisioni attraverso le cose sbagliate da valutare quindi ridurre tutto all'osso è la soluzione però poi devi avere la capacità di stare a mercato stare a mercato imparare a stare a mercato che non vuol dire tenere tutte le posizioni senza mai chiuderle ma stare perché qui c'è la cosa di comprare e poi ti penti di fare e poi non andava bene di controllare ogni 5 minuti e cambiare idea tutti questi comportamenti psicotici sono quelli classici tradizionali di chi i soldi poi prima o poi li lascia sul mercato e chi si riprende come le quei come me che hanno fatto gli stessi errori ma che hanno risolto questi maledetti errori c'è chi questi errori non li risolve e rimane per sempre a fare uno di questi errori che ti ho appena detto guarda che ti ho dato 5 categorie di errori non 5 errori 5 categorie di cui fanno parte molti errori più piccoli quindi tu prima che fai tutti questi errori e capisci e correggi tutti questi errori potresti aver finito i soldi o aver iniziato a pensare a credere che col trading online gli investimenti non si guadagna che questa credenza e affermazione sia stupida io te lo dimostro subito gli uomini più ricchi al mondo sono diventati ricchi grazie alla quotazione delle loro aziende in borsa o facendo investimenti in borsa Warren Buffett non è che c'è nel senso dice che fa quello che fa e non è vero Ray Dalio anche ma ce ne sono una sfilza quindi che si guadagni da questo mestiere e che sia uno dei più profittevoli se non è il più profittevole al mondo non c'è bisogno di altre conferme la cosa fondamentale è capire quali sono quelle poche cose da cui non ci si può esimere per fare di questo lavoro straordinario una carriera straordinaria e duratura parola del Max dalla Costa Rica grazie a tutti